Niente più code, lunghe attese e maggiore trasparenza per gli iter amministrativi delle attività produttive dell'edilizia a Terlizzi, dove lo sportello dedicato a questi due importanti settori è diventato telematico. Si tratta di una novità sostanziale, ha detto il sindaco Nini Gemmato commentando la notizia, che rende tracciabili e trasparenti tutti gli iter sottoposti al vaglio della pubblica amministrazione. Così dal 1 luglio sarà possibile accedere alle informazioni dello sportello unico delle attività produttive e dello sportello unico per l'edilizia semplicemente con un clic. Numerosi vantaggi per imprese, professionisti e cittadini. Con la telematizzazione, ha spiegato il primo cittadino, si avrà la possibilità di monitorare la velocità della pubblica amministrazione nel portare a compimento le pratiche. Si tratta in buona sostanza di una buona pratica, ha continuato Gemmato, che permette all'ente un passo avanti in termini di efficienza, trasparenza e tracciabilità. Fiducioso anche l'assessore alle attività produttive Paolo Malerba, secondo cui con questo provvedimento si starebbe adottando una tendenza assolutamente positiva che il comune di Terlizia ha secondato e che permetterà di far pesare meno la burocrazia a chi si interfaccia con l'ente, che sia il professionista o il semplice cittadino. Grazie a tutti.